Domani per chi vorrà fare del bene sarà una giornata speciale perché è la giornata ufficiale della colletta alimentare che cambia forma ma lo scopo è sempre il solito. Sì, quest'anno purtroppo non si può utilizzare i volontari che gli anni scorsi erano notevoli e quindi si è dovuto trovare una nuova forma per poter avere la possibilità di aiutare comunque le persone bisognose. Abbiamo quindi fatto una nuova forma che è quella dell'acquisto di card il cui valore da 2, 5 o 10 euro può essere acquistato presso i punti vendita che hanno aderito all'iniziativa della colletta alimentare. C'è una certa difficoltà perché non tutte le casse, non tutti i totemi che sono stati distribuiti per questa iniziativa si possono vedere facilmente. Allora chiediamo proprio alle persone quest'anno di fare un ulteriore sforzo cioè andare al supermercato e vedere dove queste card possono essere acquistate. Queste card acquistate una volta poi quando il cliente, quello che ci vuole aiutare, vuole dare il proprio contributo viene dato alla cassa la quale registrerà il valore che lui ha scelto. Alla fine della colletta quest'anno, che però durerà non solo la giornata del 28, ma dal 21 novembre è in atto fino all'8 dicembre, il valore verrà dato dai supermercati e trasformato in prodotti alimentari. Questi prodotti alimentari verranno mandati alla sede regionale del Banco Alimentare il quale poi vi consegnerà alle varie strutture caritative della regione. Pensate, nel 2020, fino al momento della colletta, il Banco Alimentare della regione Liguria aveva distribuito 1748 tonnellate di prodotti alimentari alle 403 strutture caritative della regione. Tra l'altro questa nuova forma di iniziativa contribuisce a abbattere gli sprechi. Certamente. Gli altri momenti davamo dei sacchetti dove la gente metteva quello che voleva. Invece con questa forma qua il Banco Alimentare ha chiesto alle strutture caritative la quantità di prodotti necessari e quindi non ci sarà più lo spreco perché sul valore richiesto verranno acquistati prodotti e alimenti proprio quelli richiesti dalle strutture caritative.